Un secondo, non di più, è un lasso di tempo brevissimo per un'idea curiosa, mai realizzata prima, che sarà ricordata come uno dei momenti più interessanti dell'arte contemporanea. Si tratta della mostra svoltasi sabato sera presso l'Alexander Museum Palace Hotel di Pesaro. In totale 12 opere inedite, mostrate per la prima volta al pubblico presente in un flash fotografico. Il protagonista è il poliedrico Alessandro Marcucci Pinoli, o semplicemente Nani per gli amici, amante dell'arte e promotore da sempre di iniziative di carattere culturale pubbliche e private. Io ho organizzato centinaia di mostri per migliaia di artisti in 50 anni. Quattro miei amici hanno deciso di farmi questo grande regalo. Prima della cena, la mia amica ha presentato un mio libro, l'ultimo libro che ho scritto. E dopo la cena, questi tre miei amici, Leonardo Nobile, Rustichelli, questo grande fisico, e questo grande curatore di mostri, cioè Brucia, Carlo Brucia, hanno presentato me e io ho fatto vedere i miei ultimi 12 quadri in un secondo. Un evento in cui i concetti di spazio, tempo e arte si sono uniti grazie alla presenza del fisico anconetano Franco Rustichelli, ricercatore ed autore di un progetto europeo di scienze e arte e uno di medicina rigenerativa. Il suo test sulla via dell'immortalità è stato rappresentato in Francia e in Italia. La mostra è definita come la più breve mostra del terzo millennio e quindi già da questo punto di vista vediamo che c'è un collegamento tra l'arte e il tempo. Per quel che riguarda lo spazio, io ho collegato la personalità del conte Nani a quella di Gino De Dominicis, che è considerato uno dei più grandi artisti del XX secolo. L'altra è quella nella galleria Toselli, il punto invisibile, in cui la galleria era vuota, erano disegnate le tre coordinate sui tre assi cartesiani. Quindi ci troviamo di fronte a due singolarità, singolarità del tempo, quella di questa sera, singolarità dello spazio di Gino De Dominicis, ho evocato anche la singolarità del buco nero che attira tutto quanto, compresa la luce. Ideatore della serata Carlo Bruscia, figura di spicco delle attività culturali fanese, con la collaborazione dello scultore pesarese, conosciuto a livello internazionale, Leonardo Nobili, che ha dichiarato «L'arte non dà né spiegazioni né risposte, l'arte è l'assoluto». Dovevamo organizzare qualcosa di inedito insieme e questa idea della mostra di un secondo, che è la mostra più breve del terzo millennio, nasce dopo che io ho realizzato già nel 2000, a cavallo dei due secoli, la mostra di due secondi a Gino De Dominicis. Quella mostra andò in tutto il mondo perché i due secondi chiusero i due millenni, quindi dopo 23 anni io riesco a fare un evento che rimarrà nella storia perché fermiamo il tempo per un secondo ed sarà la mostra più breve del terzo millennio.